Buon pomeriggio a tutti, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal web. Eccomi ritornata con le anticipazioni di Amici 2022. Finalmente oggi 1 febbraio si è registrata una nuova puntata che noi andremo a vedere domenica 5. Vediamo grazie al vicolo delle news che ci dà lo spoiler che cosa è accaduto. Ospite in puntata è stato Brex che canta Guasto Amore. Alla fine dice a Guax che quando usciranno si vedranno anche se spera il più tardi possibile perché hanno un produttore in comune che poi è quello che si è esibito con lui oggi. Finalmente Samut, grande attesa dopo due sfide rinviate, riesce a fare la sua tanto attesa sfida e ragazzi vince. L'influenza sta girando nella scuola di Amici. Infatti in questa puntata della registrazione a non essere presenti sono stati Mattia e Aaron. Gara di canto giudicata da Vessicchio, Baby K e Sarcina vede al primo posto Nibio a seguire Cricca, Angelina, NDG, Piccolo G e Federica che è stata molto apprezzata da Vessicchio, poi Yor e in ultimo Wax. La gara di ballo è stata giudicata da Rossella Brezcia e vede protagonista al primo posto Maddalena a seguire Alessio, Gianmarco, Samu, Pacchi, Benedetta e Megan. Piccola gara invece per partecipare a un festival sardo che è chiamato Show Open giudicato da Sebastian. Tra i ballerini in gara sono Maddalena, Alessio e Gianmarco, vince Alessio. Invece per i cantanti in gara sono Angelina, Nibio e Cricca, vince Angelina. Megan invece svolge il compito assegnatogli da Emanuello. Lo supera e poi a Raimondo Todaro chiede se può cedergliela come allieva. Emanuello accetta. Maddalena invece non svolge il compito che la Celentano le ha assegnato. Cricca invece svolge il compito di Arisa ma a fronte c'è una discussione tra di loro anche un po' accesa al punto che la prof gli dice di essere più umile e meno strafottente. La prova team è stata vinta da Maddalena, quella oreo da Gianmarco. Maria fa pace pubblicamente con Wax, gli dice che non è solo colpa sua tutto quello che è successo a Capodanno ma ultimamente si sta comportando in modo bene e questo Maria lo apprezza. Lo ha trattato male per il suo bene per fargli capire che stava sbagliando. Angelina invece gli ha scritto una lettera e ha detto di volerli molto bene ma questa lettera non è stata letta. Il contesto invece Radio Mediaset è stato vinto da Piccolo G e Federica e tutto questo è l'aggiornamento al momento che ci giunge dalla pagina Piccolo delle News. Questo è tanto altro quindi della puntata registrata oggi ad amici. Pare che non ci sia stata nessuna maglia del serale e Sam finalmente vince la sfida.